L'ex presidente del Brasile, Luis Ignazio Lula da Silva, recentemente riabilitato dopo le condanne che lo avevano portato in carcere, si è vaccinato contro il Covid-19, in evidente polemica contro l'attuale presidente in carica. Sono felice, spero che questo vaccino dia il risultato che sogno e che il popolo brasiliano sogna, perché tutto ciò che la gente vuole è essere vaccinata contro questo mostro chiamato coronavirus e che il presidente della Repubblica la smetta di fare l'ignorante. Mentre il Brasile sconta più di 11 milioni di casi di coronavirus e viaggia verso i 300.000 decessi, il presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro, sta cercando di liberarsi della sua immagine di negazionista del coronavirus. Dopo aver qualificato la pandemia come una piccola influenza e aver chiesto ai brasiliani di smetterla di lamentarsi a causa del virus, Bolsonaro ha cominciato a indossare in pubblico la mascherina chirurgica e ha firmato nuove misure volte ad accelerare l'acquisto dei vaccini.